Tante recriminazioni, stiamo a due punti alla servezza con tante recriminazioni. Questa è una squadra che deve continuare a lavorare come stiamo lavorando, con più cattiveria e determinazione, perché anche oggi Lavellino con questo suo 4-2-4 è come giocare al Biardino, quattro dietro, due a centrocampo e quattro in avanti. E noi a Biardino abbiamo giocato, non si può prendere un secondo gol con il mio quarto che rimane in attacco, ma sono errori di gioventù, cresceremo. Ma che ha fatto Montalto? Era in formazione poi? Montalto ha un dolore già dal decimo minuto del primo tempo alla partita, ha un collo del piede, noi non abbiamo parlato perché non mi piace piangere, ma lui tutta la settimana ha stretto i denti, ha provato con una puntura, però gli si è addormentato il piede, non riusciva a calciare e l'ho provato fino all'ultimo secondo. Per noi è un giocatore importante, per il nostro modo di giocare mi dà profondità, mi dà fisicità. Chi è entrato doveva fare qualcosa in più. Si aspettava questo Avellino come atteggiamento, soprattutto come giocatori, visto che molti erano in dubbio, parecchi, e poi alla fine molti hanno giocato? Predattica, predattica, perché non mi sono sembrati giocatori infortunati. I giocatori infortunati ce l'avevamo noi, infatti non hanno giocato come Defendi e come Montalto. I vostri avete fatto predattica, avete pianto tutta la settimana, io piango adesso, adesso piango che mi mancavano i giocatori, io avete pianto prima, io piango dopo. Senta, Pokesci, qualche rimpianto perché forse la squadra si è svegliata un po' tardi. Parlo in zona offensiva, nell'ultimo quarto d'ora solamente, dove avete creato più di un problema l'Avellino? Abbiamo rischiato, abbiamo messo quattro attaccanti e una mezza punta. Abbiamo provato con Taurino, era l'ultimo, tra lui e Candellone, mi serviva uno sverto, uno rapido. L'abbiamo provato, però noi alla manovra, al primo tempo ci vuole un po' più di cattiveria perché siamo arrivati fino a tre quarti bene e poi dobbiamo finalizzare meglio, dobbiamo essere più cattivi, dobbiamo fare più tagli, dobbiamo andare ad attaccare più il primo palo, dobbiamo più mettere uomini in aria. Abbiamo giocato quelle partite che sono belle a vedere ma risultato, se non ci metti rabbia, cattiveria, determinazione, e evidentemente non sono stato bravo io a motivare i miei ragazzi che sono stati eccellenti per tutto il campionato, hanno fatto una stagione magnifica perché stare a due punti ancora attaccati alla zona salvezza, a due punti, con tutte le disgrazie che ci sono capitate perché noi abbiamo perso cinque partite tra il 91esimo e il 95esimo, quindi se sommiamo il pareggio di una partita del Venezia e due punti regalati a tutti quanti, stiamo parlando di nove punti. Mettete nove punti alla Ternana e fino al 91esimo questa squadra è bene, poi dal 91esimo al 95esimo la colpa è la mia che devo far gestire meglio gli ultimi minuti alla mia squadra. Si sente a rischio? Ma io sono sempre a rischio, tutti gli allenatori sono a rischio, non c'è un allenatore sicuro, anche i grandi, io ho conosciuto allenatori che sono stati e sono le prime classifiche, la mia vita di allenatore è sempre responsabile di tutto quello che fa, c'è una società che decide, io sono molto sereno perché, vi ripeto, io sto facendo il mio lavoro con passione, con està, con lealtà e con grande determinazione. Providenziale la sosta?